Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Romania Italia, seconda uscita degli Azzurri al Tour Estivo 2022. Domanda da parte di Sebastiano Pessina di On Rugby. Per Romania e Georgia, così come è stato per il Portogallo, saranno partite della vita. Siete consapevoli che anche per noi e per il nostro movimento queste partite hanno una grande importanza? Sì, assolutamente. Giochiamo la prossima partita come fosse quella della vita. Sappiamo che, come abbiamo detto, abbiamo intrapreso un processo importante per onorare l'identità di squadra e ottenere rispetto e credibilità da parte del rugby internazionale. E crediamo che seguire passo passo ogni partita al migliore dei modi sia il modo giusto. per affrontarla. Domanda da parte di Paolo Caselli di Firenze Supersport. Hai collezionato tante presenze con le zebbre e adesso con Benetton. Pensi che questa duplice esperienza con le franchigie italiane possa esserti di aiuto nella tua nuova esperienza di capitano per questa partita? Beh sì, diciamo più che ovviamente tra zebbre e tre viso, diciamo che la mia età ormai inizia ad aiutare perché ho accumulato diversi cap con le tre squadre, insomma anche con la nazionale e quindi mi sento sì ormai un giocatore d'esperienza. Domanda da Cristian Marchetti del Corriere dello Sport. Cosa è per te la leadership, soprattutto in una squadra ancora a caccia di una forte identità come questa attuale? Guarda, io credo che la leadership per come la vedo io, quello che cerco di trasmettere ai miei compagni sia il leading by example. Non sono una persona che parla troppo, cerco più di dimostrare la mia leadership con i fatti. Domanda da Alessandro Ferri di NPR. Ti sei confrontato con Michele Lamaro una volta che hai saputo di guidare in campo la squadra? Sì, sì, ne abbiamo parlato ieri ed è stato, come tutta la giornata, è stato un bel momento anche quello perché insomma, anche se per questa partita sono davvero onorato di poter prendere il suo posto. Comunque, no, mi ha fatto l'in bocca al lupo ed è una persona che rispetto assolutamente. Insomma, sono molto contento. Domanda da Ivan Malfatto del Gazzettino. I gradi di capitano per te sono un punto d'arrivo della tua carriera, inoltre ti chiede se ci sarà una forte scossa dopo la prestazione contro il Portogallo. Guarda, i gradi di capitano non me lo sarei mai aspettato. È un onore incredibile, mai nei miei miglior sogni avrei immaginato di poter guidare la mia nazionale in una partita di rugby. Chiaramente, come dicevamo, per la partita del Portogallo, sì, chiaramente abbiamo visto quali sono i punti su cui focalizzarsi, su cui migliorare, da aggiustare, insomma. E credo che venerdì sera faremo una grande partita. È mancata forse un po' di fisicità e quello venerdì deve essere assolutamente uno dei punti cardine. Domanda da Gianluca Barca di All Rugby. Tra il 2017 e il 6 Nazioni 2019... Rifaccio la domanda. Tra l'estate 2017 e il 6 Nazioni 2019 hai collezionato solo un cap. In mezzo la parentesi a Tolone, poi ritorno alle Zebbre, l'operazione all'anca del 2020. Adesso, alla soia dei 30 anni, sembri aver trovato la tua definitiva maturità. Quali sono stati i momenti chiave di questo tuo percorso e quanto è stato determinante il ritorno a Treviso due anni fa? Sì, sai, qui chiaramente parliamo sempre di rugby, quindi infortuni ci sono e ci saranno. Poi, ovviamente, io ho seguito sempre il cuore, ho seguito sempre quello che volevo fare. Chiaramente, come ho già detto, gli infortuni ci sono, ci sono stati, ma mi sono serviti davvero per magari allontanarmi un attimo dal campo e ritrovare il focus. Riguardo a Treviso, sì, sono d'accordo che è stato, diciamo, il passo per ritrovarmi e sono davvero contento di come stia andando in questo momento la mia carriera. Chiaramente, so per certo che non è un punto di arrivo, so per certo che devo continuare a lavorare ogni giorno. Domanda da Mark Parmel di Rugby World. Conta più il risultato della prestazione in questa finestra estiva? Ma no, diciamo che il risultato ha una conseguenza. Sappiamo che la prestazione è quella su cui ci dobbiamo focalizzare assolutamente in queste due ultime partite, partite domani sera per primi. Insomma, è il momento, insomma, di dare un segnale importante e domani è il momento giusto per farlo. Domanda da Simone Battaggia della Gazzetta dello Sport. I capitani tra i tre quarti sono rari. Cosa significa per te questo ruolo e qual è il capitano a cui tu senti di dovere di più e quale sarà il momento in cui parlerai alla squadra? Sì, non è... Insomma, è strano vedere un'ala capitano, sì, lo so. Però, no, sono comunque contento perché e ho ringraziato davvero tanto lo staff per questa fiducia che hanno riposto in me e spero di esserne all'altezza. Basta. Ultima domanda da Moreno Molla di Sky Sport. Quanto l'aver vinto in Portogallo può aiutare sicuramente... Vi faccio la domanda. Domanda da parte di Moreno Molla di Sky Sport. Quanto l'aver vinto in Portogallo può aiutare psicologicamente ad essere più liberi o viceversa, se c'è il rischio di portare in campo quelle incertezze viste a Lisbona? No, chiaramente la vittoria fa sempre piacere. Sappiamo che è arrivata con molta fatica e sappiamo anche su cosa dobbiamo migliorare per domani sera. Quindi credo che sarà totalmente un'altra Italia, soprattutto dal punto di vista mentale e fisico. Grazie a tutti per la partecipazione. L'appuntamento è per venerdì 1 luglio alle 21 locali, ore 20 italiane, allo stadio Arcul de Triunfo di Bucharest per il secondo test match dell'Italia al Tour Estivo 2022 che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action. Buona giornata.